Saluto ieri sera dopo la giornata a Quirinale e devo dire che Trento mi ha accolto bene, oggi c'è una giornata fantastica per un cittadino come me che viene da Milano, svegliarsi la mattina e vedere le montagne col sole così è veramente bello, mi fa respirare, mi mette allegria, mi fa respirare un'aria di serenità quindi primo giorno per ora tutto perché sicuramente siamo dei giocatori che hanno vissuto un'esperienza che ci ha un po' cambiati, ci ha fatti crescere anche da questo punto di vista quindi penso che l'esperienza maturata quest'estate potrà soltanto che aiutarci nella nostra stagione con Trentino. Sì, abbiamo pochi giorni, siamo arrivati da poco, quelli che hanno vinto l'Europeo, però siamo già pronti mentalmente da spingere tanto, impegnarci tanti in questi giorni per recuperare e arrivare in forma il più possibile per le prime partite, possibilmente sono anche magari un po' più avanti, però stamattina siamo già qua in palestra e cominceremo e spingeremo tanto. Siamo un gruppo abbastanza nuovo costruito quest'anno, quindi dovremmo trovare un impegno nel nostro gioco, dovremmo allenarci tanto, impegnarci tanto e secondo me riusciremo a paderci anche tante soddisfazioni. Il fatto di noi di questo sogno, di questa impresa azzurra qui a Trento è un motivo di orgoglio, è una cosa molto bella, noi ci rendiamo molto felici di giocare, di continuare a giocare dopo questa impresa insieme nel club, è una cosa che ci fa stare bene, ci ha dato l'autostima e sicuramente il rapporto tra di noi è molto buono e cercheremo anche di metterlo in campo e provare a coinvolgere anche gli altri.